a di autoservice dove esperienza e professionalità accendono i motori le services servizi grafici abbigliamento sportivo antinfortunistica e per qualsiasi professione istituto di vigilanza securità spuglia ristorante pizzeria le tre torri da giovanni gruppo simpli l'ipermercato più vicino a te todomodo e hotel a terra caseificio bianca ustuni 30 40 imprese costruiamo la tua solida realtà una vittoria all'overtime che poi ha avuto una storia a parte perché l'avete stravinto un sacco di errori anche se poi tutto sommato le azioni non erano state costruite male stasera molto spesso è stata la conclusione avevate le polveri bagnate però alla fine è andata bene sì non abbiamo visto la morte in faccia bisogna dire le cose così come sono sì non abbiamo non abbiamo attaccato male tanti buoni tiri però è venuta a galla un attimino la paura di perdere noi venivamo dalla partita in casa persa malamente con una contestazione anche abbastanza forte e quindi quando appena gli avversari hanno trovato invece di allungare eravamo più 6 più 8 tre o quattro contropiedi buttati invece di spaccare la partita lì abbiamo dato la possibilità agli avversari di rientrare e abbiamo avuto un timore una grande paura di perdere e questo ce lo dimostra il fatto che poi dopo appena nei fondamentali nei tempi supplementari nell'overtime abbiamo trovato subito il primo canestro ci siamo scrollato di dosso questa questa paura e chiaramente tutto diventato più facile abbiamo trovato dei tiri da tre punti abbiamo abbiamo finalmente fatto commettere il quinto fallo a uno dei loro giocatori più forti avevamo paura attaccare gli uomini più forti nonostante abbiamo chiesto insistentemente con due giochi uno per il pivot basso contro Barozzi uno per Mantas che non non riusciva ad attaccare perché evidentemente gli è venuto un attimino questa questo timore questa paura di perdere ripeto e questo è testimoniato dal fatto che poi appena siamo riusciti a nell'overtime a fare subito un canestro ci siamo sbloccati e improvvisamente abbiamo giocato quello che abbiamo fatto quello che volevamo fare e che siamo in grado di fare l'inserimento di Sherman prosegue abbastanza bene un giocatore che può dare una grossa mano a questa squadra non solo in termini di punti ma evidentemente ancora deve integrarsi meglio ma devo dire che stasera rispetto alla prima all'esordio non è andato benissimo perché la voglia di voler strafare lo ha portato a fare delle cose che lui due tredici a nove metri dal canestro non deve fare e noi gli abbiamo chiesto di fare troppe volte lui è uscito per andare a raddoppiare a nove metri dal canestro e chiaramente non era una cosa che noi gli avevamo detto di fare in più la sua condizione non è ancora ottimale e quindi hai ragione quando dici che sicuramente l'inserimento e poi è un ragazzo molto generoso è un ragazzo che ha una voglia di fare bene di aiutare compagni e di fare bene per questa maglia che io non avevo mai visto prima in nessuno straniero quindi non è il primo anno che alleno quindi questa sua grande voglia di voler fare non ha fatto altro che fargli fare anche delle delle decisioni che in qualche modo ci hanno anche un po' danneggiato i valori tra le due squadre in campo si sono visti nei cinque minuti dell'overtime abbiamo fatto 14 a 0 e poi 16 a 3 il risultato dei cinque minuti evidentemente nel resto della partita non siamo stati in grado di esprimere tutte le nostre potenzialità perché una serie di errori che abbiamo fatto nel tiro nei tiri liberi nelle conclusioni da sotto finali hanno consentito all'altamura ogni volta che avevamo 8 10 punti di vantaggio di rientrare naturalmente il coach avrà visto che cosa abbiamo fatto questa squadra ritorno sulla questione anche delle presenze non so se riusciremo fino alla fine del campionato a giocare una serie di partite con tutto l'organico a disposizione la dimostrazione che le altre squadre quando manca un giocatore due vanno in difficoltà noi eravamo e siamo una squadra assemblata in modo tale che la composizione di tante caratteristiche di tanti giocatori che concorrono a fare la squadra porta ad un risultato positivo quindi non abbiamo un giocatore che mangia i palloni che gioca da solo e che fa 30 40 punti ma tutti devono dare il loro contributo e allora diventiamo una squadra difficilmente battibile però ogni volta ci manca uno due tre giocatori leo purtroppo è diventato diciamo l'esempio della cassa mutua dell'integrazione ogni due tre partite si infortuna speriamo stasera che non sia nulla di grave perché domenica dovrebbe rientrare la tella stasera però io ho colto una cosa ne parlerò con il coach di queste cose proprio per le caratteristiche di questa squadra non penso che possano giocare contemporaneamente insieme teofilo schermann e leo perché tutte e tre insieme fanno una velocità di un unico giocatore forse quindi ecco perché la necessità di tenere tutti a disposizione e di poter alternare perché noi abbiamo sofferto per coprire in difesa abbiamo lasciato il tiro avversario abbastanza libero per usare un eufemismo diciamo hanno fatto allenamento a tirare da tre perché il nostro avversario più vicino stava a 4 5 metri e questo gli ha consentito di rientrare con sherman al quale io faccio i miei complimenti e mi ringrazio e ringrazio tutti quanti per averlo preso è stata una buona scelta speriamo che non si faccia male e che possa continuare a giocare così perché da contributo in attacco in difesa segna passa la palla socializza con i compagni quindi è una bella una buona scelta grazie a tutti